Musica Siccità preoccupate le associazioni degli agricoltori, domani nuove verifiche dei tecnici sul territorio. L'assessore Mai potremmo chiedere lo stato di calamità naturale. Lavoro in corso per l'adeguamento sismico della scuola di Borzonasca. Il primo lotto sarà completato entro la via delle lezioni. In autunno prevista la messa in sicurezza di due rivi. Il Papa L'Angelus ha invitato i fedeli a riscoprire il vero volto del Signore scendendo dal monte. Le vacanze, ha detto, servono a ritemprare il corpo senza dimenticare chi è nel bisogno. Celebrata la Madonna del Mare Azoagli, i sub hanno deposto una corona dall'ora ai piedi della Statua della Vergine. L'opera, posta sul fondale, ricorda che la fede va ricercata in profondità. Storia di un pecatore divenuto santo, Miguel Magnara. Opera del lituano Oscar Milosch andrà in scena domani sera a Villa Tigulio a Rapallo con la compagnia Il Portico di Salomone. La Virtus Entella esce dalla Team Cup battuta dalla Cremonese 1-0. Nonostante il risultato è stata buona la prestazione dei Bianco Celesti sul nuovo manto in sintetico del Comunale di Chiaveri. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Anche la Liguria potrebbe chiedere lo stato di calamità naturale per la siccità, ma sono necessarie ulteriori verifiche. E' quanto dichiarato oggi dall'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, a seguito delle numerose segnalazioni dell'associazione agricole preoccupate per i danni alle coltivazioni che l'assenza di precipitazioni potrebbe causare. Gli uffici della regione hanno inviato dieci giorni fa al Ministero delle Politiche Agricole l'ultimo rapporto sulla siccità che in questi giorni viene costantemente aggiornato. Fino ad allora non si evidenziavano particolari criticità, ma la situazione continua a perdurare e coltivazioni come olivo, vite, in virtù della loro fisiologia e del ciclo produttivo, sono molto più sensibili a cali produttivi causati proprio dalla siccità in corso. Secondo quanto riferito dall'assessore Mai, gli ispettorati agrari stanno procedendo al costante monitoraggio delle produzioni agricole e domani gli ispettori saranno nuovamente sul territorio per fare ulteriori approfondimenti e stilare una relazione definitiva sullo stato attuale delle culture e degli allevamenti. Una volta accertati i danni complessivi causati dalla siccità alla produzione agricola regionale e verificato il superamento della soglia del 30% prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta dello stato di calamità naturale, allora ci muoveremo subito, come hanno già fatto, 11 ragioni italiane per garantire agli agricoltori i giusti risarcimenti alle eventuali perdite nella loro attività. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Federico Solari di Rapallo ha presentato un'interrogazione al sindaco Carlo Bagnasco per sapere se, in considerazione dell'ondata di colore che sta interessando la Liguria, l'amministrazione insieme ai gestori della rete idrica abbiano studiato o preventivato un piano per la verifica dello stato delle tubazioni. E parliamo dei lavori in corso a Borzonasca per l'adeguamento sismico della scuola. Il primo lotto dell'intervento terminerà a settembre, prima dell'inizio delle elezioni, dopodiché l'amministrazione si concentrerà sulla messa in sicurezza di due rivi che confluiscono proprio in paese. Il servizio da Borzonasca lo vediamo insieme. Consolidamento delle fondazioni, catene di rinforzo, installazione di giunti per rendere la struttura meno rigida. L'adeguamento sismico della scuola di Borzonasca, che ospita materna, elementari e medie, è in corso in questo periodo estivo e non ha subito ritardi. L'ammontare complessivo della spesa è di 450 mila euro, 400 mila di finanziamento statale, 50 mila messi a disposizione dal Comune. Addirittura lo facciamo diventare un edificio strategico, quindi dovrebbe sostenere qualsiasi tipo di terremoto prevedibile per le nostre zone. L'abbiamo appaltata, una ditta attraverso una gara che ci ha fatto la città metropolitana, ho vinto una gara che ha sede a Saint-Vençant in Val d'Aosta. Ha cominciato i lavori, facciamo un primo lotto entro l'inizio del prossimo anno scolastico, perché non potevamo spostare, chiudere l'attività, non avevamo gli spacci necessari. Quindi chiudiamo il primo lotto e poi a fine dell'anno prossimo faremo il secondo lotto e in due tornate riusciamo a sistemarlo tutto. L'amministrazione vuol mettere mano anche a due rivi che confluiscono in paese e che durante le ultime alluvioni hanno causato allagamenti e danni. I lavori che saranno attuati al termine dell'estate non risolveranno il problema al 100%, ma serviranno a mitigare il rischio idrogeologico. La spesa per i due interventi sarà di 60.000 euro finanziati interamente dalla regione. I lavori sono già stati appaltati. Sono sufficienti a portare via l'acqua che l'abbiamo anche visto nelle ultime alluvioni, quindi da questo non c'è problema. Però se arriva giù una pianta, arriva giù qualche masso o qualcosa, chiude e allora diventano problemi come abbiamo avuto. Metteremo delle briglie selettive che impediranno l'arrivo di questo materiale all'interno di queste tombi nature che passano sotto il paese e quindi sicuramente un'ottima messa in sicurezza. Sono addirittura da riva invece i lavori della nuova area sportiva dietro a chiese di Borgonovo nel comune di Mezzanego. Intervento che ammonta 800.000 euro e offrirà ai residenti della zona e non l'occasione di praticare sport differenti. Vediamo il servizio che segue. Lavori di completamento per l'area sportiva a Borgonovo di Mezzanego. Come procedono gli interventi? Dovevano essere già finiti, però adesso ferranno di agosto. C'è un ritardo di qualche ammetto? Un ritardo di parecchi mesi. Avete dato però una piccola scossa, adesso i lavori vanno avanti. Diciamo che cosa avverrà qui? Due campi da bocce. Poi verrà un campo da basket e poi dentro al locale ci sarà una mensa e una cosa per le riunioni. Una zona allestita anche con gli spogliatoi. E un piccolo bar dove un gestore lo prenderà e lo gestirà a lui secondo. Ci sarà anche un campo da calcio? Un campetto da calcio e poi ci sarà anche un campettino piccolo per i bambini con i giochi. I giochi da dove arrivano? I giochi ce ne abbiamo già qui perché sono lì dietro e poi ne prenderemo qualcosa di nuovo. Quanto costa questo intervento? L'intervento costa sui 800 mila euro. Come è stato finanziato? È stato finanziato con la regione e ci hanno dato il capitale e noi paghiamo il mutuo. Sono quattro le locali che l'andrangheta calabrese ha radicato in Liguria costituendo tra l'altro una sorta di macro area estesa al basso Piemonte e alla Lombardia retta da una struttura chiamata proprio Liguria. Lo si evince dai dati del rapporto semestrale della direzione investigativa antimafia della Liguria presentati questa mattina a Genova. Le quattro locali sono state individuate a Lavagna, Genova, Ventimiglia e Sarzana. Indagini importanti, è stato detto durante la presentazione della relazione, hanno provato l'esistenza di nuclei anche nel Savonese collegati direttamente all'endrina calabresi a famiglie radicate nella regione del Lazio. I carabinieri del comando provinciale di Genova in questo fine settimana hanno portato a termine un'attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, specie fra i minorenni. Sono stati effettuati controlli in particolare nel centro storico di Genova, a San Pierdarena e nel Tiguglio. In particolare nel nostro territorio hanno operato i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure che hanno denunciato sei persone all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Tra questi ci sono un 23enne di Bogliasco, un 17enne di Aosta, quattro cittadini di origine straniera, tutti residenti nella provincia di Monza, Brianza. Altri sei soggetti sono stati segnalati alle prefetture competenti quali assuntori. Tra loro ci sono sei minori di età compresa fra i 15 e i 17 anni. In totale i militari hanno sequestrato 45 dose di marijuana, del peso complessivo di 30 grammi, 10 grammi di ascisce, 3 piante di marijuana e un bilancino di precisione. Si sono concluse oggi nel primo pomeriggio le operazioni di bonifica dell'incendio che ha colpito la località Casanova nel comune di Rovenio alle pendici del monte Montarlone. Per fortuna l'umidità della notte ha limitato l'espandersi del rogo. La zona è stata verificata metro per metro per evitare la ripresa delle fiamme, soprattutto dato il caldo di questi giorni. Per tutta la notte inoltre sono proseguite le operazioni di monitoraggio e di bonifica nell'area boschiva del Monte Gazzo alle spalle di Genova. Sono iniziati questa mattina per conto del comune di Santa Margherita Ligure i rilievi sul flusso veicolare nella zona di San Siro dove è intenzione di Talea Coop aprire un nuovo supermercato alimentare. Le rilevazioni sono state effettuate in un giorno infrasettimanale da personale generico del comune e da ausiliari del traffico. Gli esiti saranno elaborati da un tecnico specializzato nominato proprio dall'amministrazione. L'indagine svolta in aggiunta a quella di Talea vede anche l'utilizzo di moduli prestampati da compilare a crocette conformi a quelli della società in modo da rendere comparabili i risultati. L'analisi è stata decisa in ambito di commissione consigliare su proposta del consigliere incaricato alla viabilità Alberto Balsi come ulteriore approfondimento. I gruppi di minoranza La Voce della Città e Insieme Santa nel Cuore hanno criticato il sistema di raccolta dati che, scrive in una nota, senza nulla togliere alla professionalità degli addetti alla compta, pare un poco inattendibile rispetto ai metodi elettronici che normalmente vengono usati proprio per questi frangenti. La pagina ecclesiale del nostro giornale, il Papa All'Angelus, ha commentato il Vangelo della trasfigurazione del Signore proposto dalle letture domenicali, rivolgendo un particolare pensiero a tutti coloro che sono nella solitudine e nell'abbandono. Il tempo delle vacanze, ha commentato, è necessario per ritemprarsi nel corpo e nello spirito, senza dimenticare gli ammalati, i poveri, uomini e donne umiliati da ingiustizie, prepotenze e violenze nel mondo. Un evento luminoso di speranza, in grado di far riflettere tutti noi sull'importanza di staccarci dalle cose mondane per compiere un cammino verso l'alto e contemplare Gesù. Così Papa Francesco, prima della preghiera mariana dell'Angelus, ha definito l'episodio della trasfigurazione del Signore avvenuta in presenza degli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni. Ciò che è accaduto sul monte Tabor ci invita a riscoprire il silenzio pacificante e rigenerante della meditazione del Vangelo, che conduce verso una meta ricca di bellezza, di splendore e di gioia. Al termine dell'esperienza della trasfigurazione, il Pontefice ha ricordato che i discepoli scesero dal monte con occhi e cuore trasfigurati dall'incontro con il Signore. Un percorso, ha aggiunto Francesco, che possiamo compiere anche noi. La riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se stessa, ma ci induce a scendere dal monte, ricaricati dalla forza dello Spirito Divino, per testimoniare costantemente la carità come legge di vita quotidiana. Trasformati dalla presenza di Cristo e dall'ardore della Sua parola, saremo segno concreto dell'amore vivificante di Dio per tutti i nostri fratelli, specialmente per chi soffre, per quanti si trovano nella solitudine e nell'abbandono, per gli ammalati e per la moltitudine di uomini e di donne che, in diverse parti del mondo, sono umiliati dall'ingiustizia, dalla prepotenza e dalla violenza. Guardiamo Maria, la Vergine dell'ascolto, sempre pronta ad accogliere e custodire nel cuore ogni parola del Figlio Divino. Voglia la nostra Madre e Madre di Dio aiutarci ad entrare in sintonia con la Parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida di tutta la nostra vita. Zoaglia ha festeggiato la Madonna del Mare in un clima tipicamente estivo. I fedeli si sono radunati per la Santa Messa sulla Rotonda a Mare. È stata poi benedetta una corona che i sommozzatori dei carabinieri hanno deposto ai piedi della statua della Vergine posta sul fondale zoagliese. Noi eravamo presenti. La festa della Madonna del Mare ha radunato a zoagli numerosi fedeli. La celebrazione si è svolta sulla Rotonda della Passeggiata Mare di Levante ed è stata preseduta da Don Fabio Mazzino. In precedenza, diversi sub si sono prodigati per la pulizia della statua della Vergine posta in mare a nove metri di profondità. Un'opera d'arte, certo, ma soprattutto un segno per ricordare che la vita di fede è fatta anche di cose non visibili agli occhi. Quest'anno abbiamo scelto insieme a Don Sergio di dedicarla a Franco, Franco Casaretto, perché è il primo anno che la festa la organizza dal cielo. La celebrazione eucaristica quindi sarà proprio per lui e per suo fratello Giuseppe. La festa della Madonna del Mare, ecco, i fuochi sono chiaramente molto visibili, la presenza popolare, le autorità e la Madonna è anche lì, è nella profondità. E mi sembra bella questa intuizione che per poter cogliere la vera spiritualità bisogna avere degli occhi che non sono soltanto quelli dei nostri sensi, ma sono gli occhi del cuore. Terminata la messa si è svolta la consueta fiaccolata con la processione in mare per la deposizione della corona ai piedi della Vergine, opera della scultrice Astianatte, posta nel 1997 sul fondale davanti a Zoagli. In occasione della festa mariana c'è stata anche la premiazione dei concorsi fotografici subacui. Per il ventunesimo trofeo comune di Zoagli, trofeo mare Satema Madonnina del Mare, ha primeggiato il carabiniero Alessandro Grasso di Genova con una suggestiva immagine della statua sommersa. Ai posti d'onore Marco Panico di Genova e Flavio Vailati di Milano che si è aggiudicato anche il trofeo comune di Zoagli sul tema dell'ambiente, davanti a Roberto Baccino di Cairo Montenotte e Davide Lombroso di Trieste. I riconoscimenti speciali Fratelli Casaretto sono stati assegnati per la ricerca biologica a Walter Bassi e per l'innovazione nella fotografia ad Annibale Simi. Lo spettacolo pirotecnico ha poi completato la serata. Per le belle immagini in subacquea della Vergine di Zoagli ringraziamo Lino Stancanelli di apneawords.com Domani sera alle 21 al Teatro all'Aperto di Villa Tiguglio a Rapallo gli attori della compagnia Il Portico di Salomone porteranno in scena Miguel Magnara l'opera del lituano Oscar Milos. Vediamo. La compagnia teatrale Il Portico di Salomone porta in scena Villa Tiguglio a Rapallo Miguel Magnara di Oscar Milos, scrittore lituano di inizio novecento. Un'opera che porta lo spettatore nella Spagna del 1600 ed è divisa in sei quadri. La compagnia ha deciso di proporla in una veste però ringiovanita. In realtà le tematiche sono molto attuali ma abbiamo inserito dentro quelli che sono i nostri talenti perché ad esempio c'è una di noi che ha studiato composizione al conservatorio e allora ha composto le musiche per lo spettacolo. Un altro ha studiato cinema alla Scuola Civica di Milano per Michele per cui ha realizzato un video che sarà proiettato non semplicemente per farlo vedere agli attori ma agli spettatori ma noi attori interagiremo dal vivo con questo video. E poi ci sarà anche il ballo quest'anno perché alcune di noi sono ballerine per cui rendono proprio quest'atmosfera spagnola che nel dramma c'è già. Quindi il lavoro è stato tanto da novembre che ci lavoriamo, siamo tanti per cui non è neanche facile a volte fare le prove se uno manca. Il lavoro è tanto però è davvero bello, è bello stare insieme, farlo insieme e ne vale la pena. Siamo anche migliorati tanto in questi anni. La storia di Miguel Magnara è la storia di un cambiamento, quello di un uomo, all'inizio un Don Giovanni e qui non basta più nulla. Di qui l'avvio di una serie di incontri destinati a modificare per sempre la sua esistenza. Quello che sta per andare in scena è il quinto grande spettacolo proposto dalla compagnia Il Portico di Salomone, composta da 20 ragazzi. A questi si devono aggiungere altri recital o spettacoli per bambini. I giovani ci lavorano tutto l'anno dall'autunno fino ad estate inoltrata. Si è mantenuto questo gruppo, questo corpo, quest'anima, soprattutto l'intento di questa compagnia che è quella di trasmettere quei valori dell'uomo, quelle dinamiche interiori dell'uomo che lo rendono, rendono l'uomo realmente tale che abbiamo individuato in tanti testi, in tanti autori antichi o contemporanei. Alla fine il testo non è più soltanto quello di Milos, ma è il testo che ognuno si è riguadagnato. È come Milos adesso interagisce con l'esperienza personale dei singoli attori. Questa è la cosa più bella, indipendentemente dal fatto che poi questo testo venga o non venga apprezzato, perché è un testo molto forte, perché propone veramente dei valori o dei temi provocatori, anche un po' controcorrente forse, però la cosa importante è già successa. Hanno festeggiato con figli e nipoti Luigi Sanguinetti ed Alma Ghio, sposi da 50 anni. I due che vivono da sempre nel quartiere di San Pier di Canne, a Chiavari, si sono uniti in matrimonio il 6 agosto del 1967 a Disconesi di Maisana, il paese dell'origine di lei. Luigi, Falegname e Alma Casalinga hanno vissuto un'esistenza familiare serena, coronata dalla nascita dei due figli Daniele e Luca, e resa gioiosa dai cinque nipoti Beatrice, Antonio, Maria, Federica e Ludovica. Luigi e Alma sono risorse preziose per la vita della comunità a cui appartengono. Alma collabora attivamente con la parrocchia di San Pier di Canne, soprattutto per quanto riguarda la festa patronale, mentre Luigi è attivo nel gruppo chiavarese degli ommi di Ruinà. Nel giorno della festa sono stati circondati dall'affetto dei figli, dei nipoti, della nuora serena, del genero Lorenzo. A Luigi e Alma gli auguri da parte di tutto lo staff di Teleradiopace. Ha riscosso un buon successo di pubblico la serata ospitata in piazza Gagliardo a Chiavari, organizzata dal Museo Marinaro Tommasino Andreatta. Il titolo della conferenza era Le ali dell'UNESCO a Chiavari, Asmara patrimonio dell'umanità, tre ore di racconti appassionati che non hanno annoiato il pubblico, ma lo hanno aiutato a conoscere meglio le figure dell'ingegnere Giuseppe Pettazzi, colui che progettò la Fiat Tagliero di Asmara in Eritrea. Un profilo personale di Giuseppe Pettazzi è stato tratteggiato da Carlo Gatti, conduttore, insieme a Dernani e Andreatta. Luigi Frugone ha spiegato il futurismo alla piazza, con un interessante raffronto fra l'edificio costruito in Africa e la colonia Fara. Presente è anche il giornalista e scrittore Massimo Minella. Sono intervenuti anche i figli di Giuseppe Pettazzi, Cecilia, Ubaldo, Simonette e Metella. Nel corso della serata è stato proiettato anche un DVD inedito sull'arte decode alla colonia italiana in Africa orientale, che dal 1935 al 1940 ebbe il suo maggiore sviluppo urbanistico. E per finire anche la torta commemorativa a tema. Per Rapallo è stato inaugurato il quinto defibrillatore semiautomatico donato dall'Associazione Il Cuore alle Comune Rapallese. È stato installato nella frazione di Santa Maria del Campo. La donazione rientra nell'ambito del progetto Rapallo Città Cardioprotetta, presentato alcuni anni fa dal Sodalizio insieme al centro di formazione New Life Rapallo. Quest'ultimo si occuperà della formazione sull'utilizzo del defibrillatore. La benedizione dello strumento è stata impartita da Don Davide Sacco. Dal prossimo 10 di agosto ai bagni Ciccio a Chiavari si svolgerà la quarta edizione di Dona il tuo giocattolo. Iniziativa finalizzata al recupero di giochi da spiaggia, utilizzati da grandi e piccini durante le loro vacanze, al fine di un loro riuso per i bambini assistiti dall'Istituto del Bagliatico. La raccolta è possibile grazie alla disponibilità dei titolari Paolo e Gino, dei bagni Ciccio e di Chiavari, e alla dedizione di Giordana Taggiasco, promotrice di questa iniziativa. Nelle passate edizioni, grazie alla generosità delle persone, si è avuto un grande successo e si sono stati raccolti significativi quantità di giochi da spiaggia. Il bagliattico ha poi provveduto alla verifica, pulizia e consegna ai bambini assistiti, attualmente oltre 75, tutti di età inferiore ai 3 anni. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Gli appuntamenti in agenda per martedì 8 agosto. Dalle 8 alle 13, il Mercato da Mare sarà a Chiavari in Piazza Roma, bancherelle di prodotti agricoli a cura di col diretti. Il Labter di Sestri Levante organizza un'immersione con maschere e pinne nella Baia del Silenzio, l'appuntamento alle 9 sul pontile della Lega Navale. Vetrine di moda viventi a Santo Stefano Daveto dalle 17 a seguire, la vetrina più bella sarà premiata. Torna al Borgo in Tavola a Caviborgo, la cena itinerante organizzata dal CIV dalle 19 nelle vie del centro. Ultima serata per la festa di San Giacomo a Calevalle di Coreglia Ligure, dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici a seguire danza con l'orchestra Paolo Bertoli. Il Circo Lacli di Villa Tassani e Sestri Levante organizza una cena di solidarietà per l'accoglienza dei minori ucraini provenienti da famiglie che hanno sofferto il disastro di Cernobil, l'inizio alle 19.45. All'interno della mostra Mondo mio, modo mio di Maria Cristina Rumi a Palazzo Fasce di Sestri Levante, alle 21 si terrà un concerto di musica sperimentale della scuola Pucciarelli. Concerto lirico-sinfonico in piazza Matteotti a Sestri Levante, alle 21 musiche classiche e contemporanee a cura della filarmonica di Sestri. Nell'ambito del Festival Paganiniano di Carro, il pianista Leonardo Nevali si esibirà nella chiesa di Santa Croce di Beverino. Il recital include musiche del repertorio classico con inizio alle ore 21. Nel Garden Show dell'hotel Aida di Alassio andrà in scena lo Sherry Band Show, spettacolo midley con suggestive coreografie e colpi di scena dalle 21.15. All'interno del Tigul Expo di Rapallo si svolgerà l'incontro l'area marina protetto di Portofino, un mondo sommerso da scoprire e proteggere, con la biologa marina Eliana Ferretti. Inizio alle 21.15 all'oratorio dei Neri a seguire l'intervento di Alessandro Verga, avvistatore per Whale Watch Genova. La compagnia a tetrare il portico di Salomone metterà in scena il dramma Miguel Magnana di Miloz, l'inizio alle 21.30 a Villa Tigulio di Rapallo. Proseguono gli appuntamenti con il cinema all'aperto nella bocciofila di Camogli. Alle 21.30 la proiezione di Lasciati andare di Francesco Amato. Luca Traversa, responsabile dell'osservatorio Mafia di Liguria, terrà un incontro dal titolo Mafia in Liguria, come operano e come contrastarle, alle 21.30 nel parco Tigulio di Lavagna. In località setta di Framura si terrà la conferenza Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro con Francesca Toso all'inizio alle 21.30 sul Sagrato di San Rocco. Domani sera alle 21.00 a Palazzo Fasce di Sessi Levante andrà in scena un concerto di musiche sperimentali scritte dal compositore Luca Brignole. L'evento è abbinato alla mostra pittorica dell'artista Maria Cristina Rumi esposta sempre a Palazzo Fasce sino al prossimo 19 di agosto. Ad esibirsi saranno la pianista Silvia Vignolo e la violoncellista Masha Shalbazianse ai quali si affiancherà la performance in movimento dell'attrice e ballerina Silvia Sacco. E ora passiamo allo sport, precisamente al calcio. La Virtus Entella Chiavari non è riuscita a passare il turno di Team Cup che la vedeva contrapposta alla Cremonese. Ieri sera allo stadio comunale di Chiavari i Lombardi si sono aggiudicati. La partita con una rete allo scadere del primo tempo da parte di Pesce. I biancocelesti di Mister Castorina hanno fatto vedere buone cose nella prima uscita stagionale. Oggi riprenderanno gli allenamenti in vista della mitchevole che si disputerà mercoledì alle 18 sempre al comunale contro la Lavagnese. Vediamo. Non è andata nel migliore dei modi la prima uscita stagionale della Virtus Entella dinanzi al pubblico di casa. Sul nuovo manto del comunale di Chiavari i biancocelesti hanno dovuto cedere il passo alla Cremonese che prosegue il cammino in Team Cup. Nel primo tempo la squadra di Mister Castorina è stata a tratti brillante con qualche buona accelerazione presentandosi più volte dinanzi alla porta avversaria. È proprio lo scadere dei primi 45 minuti di gioco però che i padroni di casa incassano la rete dei Lombardi. Pesce intercetta un pallone al limite dell'area chiavarese e con un preciso rasotella l'angolino porta in vantaggio i suoi. La Cremonese è stata brava a sfruttare questo tiro dalla lunga distanza. Una partita d'inizio stagione dove comunque all'inizio le squadre si sono affrontate a viso aperto e quando eravamo comunque 11 contro 11 devo dire che le occasioni da rete qualcuna l'hanno avuta loro però diverse le abbiamo avute anche noi. Secondo me forse nel secondo tempo quando abbiamo avuto la possibilità di giocare in superiorità numerica non siamo stati forse abili a sfruttare a pieno questa possibilità la mia squadra per essere la prima partita importante che faceva è rimasta ordinata, è rimasta equilibrata non ha perso la testa ha cercato la via del gol con insistenza tutto il secondo tempo l'abbiamo sfiorato diverse volte però non siamo riusciti tutto sommato mi sembra una partita equilibrata che però oggi è andata così. La Virtus Entella ha fatto vedere buone cose finché le condizioni hanno retto e si è intravista anche l'idea di gioco che il tecnico sta cercando di dare alla squadra in vista del prossimo campionato di Serie B. Stiamo cercando di portare in campo quello che il mister ci chiede anche perché vediamo che le cose che lui ci chiede alla fine vengono e quindi penso che dobbiamo lavorare lavorare come stiamo facendo e poi sono convinto che abbiamo una base solida su cui lavorare pian piano stanno inserendo i nuovi che hanno dato grande disponibilità e quindi penso che l'Entella si divertirà quest'anno. Prima amichevole stagionale per la Lavagnese che contro la squadra primavera dello Spezia ha pareggiato 1-1 in casa degli Aquilotti i bianconeri sono passati in vantaggio al quarantesimo del primo tempo con Falle gli avversari hanno raggiunto il pareggio al quarantacinquesimo con Mulattieri per mister Venuti tante cose sono da rivedere ma si è detto soddisfatto delle indicazioni fornite dalla gara. Alessio Cambiaso, 24 anni genovese proveniente dalla Promo Geste il nuovo centro vasca della chiave di nuoto l'acquisto è stato ufficializzato oggi dal direttore sportivo Nicola Chiari la società verde blu potrà contare anche su un secondo rinforzo ovvero su Matteo Pineder anche egli 24 anni nato a Santa Margherita Ligure Mancino il giovane ha trascorso alcuni anni all'estero e ora si appresta a dare il suo contributo alla Rosa per affrontare il campionato di Serie B non sono andati bene come avrebbero sperato per le squadre Ligure le prove del campionato italiano di Pesca Mosca in Valsesia la Flai Genova si è fermata ai piedi del podio i moschisti genovesi sono arrivati quarti per un soffio laddove avrebbero sperato invece di bissare il successo dello scorso anno Chiavaresi della Fima con la squadra composta da Giancarlo Gazzolo Matteo Zamparutti, Alessandro Barbieri e Stefano Circella hanno chiuso all'ottavo posto assoluto con 23 penalità primo posto per la squadra di casa la canna Vicentina Flai per quanto riguarda la classifica coppie primo posto per l'attronico e zulato dei gabbiani Varese mentre Flai Genova ha chiuso all'ottavo e dodicesimo posto per la Fima che è finita al diciassettesimo e diciannovesimo buon successo invece ha riscosso il campionato provinciale di Pesca al Colpo che si è svolta su tre prove a Giacopiane e alla Spezia Alessio Alessiani, pluricampione di Pesca Mare ha conquistato il titolo di questa specialità con la maglia della Fima Chiavari secondo posto ad Enrico Botto, sempre della Fima terzo ad Alberto Codano, anch'egli con la casacca chiavarese questa era l'ultima notizia del nostro giornale il prossimo appuntamento con l'informazione è rinnovato a domani a l'ore 12.45 con il TG13 io vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete arrivederci grazie a tutti